diego maranghi e leonardo piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo al manacco di bellezza 7 giugno leonardo piccinini piero maranghi la settimana rossa è una rivolta che infiamma l'italia per sette giorni dal 7 al 13 giugno del 1914 sono 110 anni tondi e siamo alla vigilia non per l'italia del primo conflitto mondiale in particolare le terre coinvolte sono quelle dell'emilia romagna e delle marche e il paese è in un clima di altissima tensione generale perché le forze delle sinistre sono giustamente sempre più turbolente nel reclamare pieni diritti di equità sociale politica occupazionale in un periodo di terribili crisi economica e di emigrazione il governo vieta ogni manifestazione di carattere politico 7 giugno la festa dello statuto del regno lo statuto alberti quello lì esattamente carlo alberto un giorno molto caro all'italia monarchica e liberale ed è il giorno in cui le forze della sinistra organizzano congiuntamente manifestazioni antimilitariste contro le compagnie di disciplina contro il militarismo e contro la guerra e ad ancona quel 7 giugno 1914 scocca la scintilla che in breve tempo infiammerà incendierà i moti popolari e insurrezionali in gran parte del paese ancona perché perché ad ancona c'era il porto il cantiere navale la ferrovia le prime fabbriche l'entroterra agrario e quindi era un luogo in cui da anni c'era già fermento e ancora si era conquistata la fama di città solversiva aveva conosciuto numerose esperienze di rivolte e sollevamenti popolari ci hanno stati i moti del pane ancora nel 1800 alla fine 1898 c'erano stati gli scioperi del 1913 e poi sappiamo ancora ospitava importanti nuclei delle principali forze politiche di sinistra gli anarchici i repubblicani i socialisti e anche molte associazioni dei lavoratori che era erano capaci di costruire e di costituire un fronte comune sempre più agguerrito 7 giugno è una domenica piove il comizio fissato nella mattinata che doveva svolgersi in piazza del papa viene spostato dai dirigenti dei partiti al pomeriggio a villa rossa che è la sede dei repubblicani di ancona leonardo quel giorno parlano il segretario della camera del lavoro pietro nenni per i repubblicani che era ancora repubblicano giornalista aveva già rotto mussolini pelizza per i sindacalisti malatesta per gli anarchici e marinelli per i giovani repubblicani è un clima tesissimo anche soprattutto perché le forze dell'ordine che volevano prevenire un eventuale corteo verso piazza roma istituiscono due cordoni di gendarmi per isolare villa rossa finisce il comizio e molti dei partecipanti usciti in strada si trovano circondanti e scoppiano i primi inevitabili tafferugli preceduti da scambi di insulti e lanci di pietre da parte dei manifestanti la guardia regia spara in aria i carabinieri immaginano che si tratti di un colpo partito dalla folla contro di loro e aprono il fuoco e partono decine e decine di spari tre dimostranti restano uccisi al suolo muoiono attiglio giambrignoni aveva 22 anni anarchico muore antonio casaccia 24 anni repubblicano e poi nello budini che aveva 17 anni anche lui repubblicano morirà dopo in ospedale il giornale governativo che si chiama il giornale d'italia scrisse che gli agenti avevano sparato senza necessità si sentiva le sparatoi da sopra i palazzi da piazza roma tutti morti in fila per il corso lì è stata una galera che fuggia da qua che fuggia da là tarda serata del 7 giugno ad ancona ovviamente viene proclamato lo sciopero generale è un'analoga decisione a quella che su scala nazionale viene adottato dal partito socialista italiano e dalla cgdl subito seguiti da partito repubblicano federazione anarchica e usi lo sciopero generale dura un paio di giorni un paio di giorni mentre il moto rivoluzionario avrebbe avuto vita più lunga perché parliamo di una settimana intera dove alcune zone del paese si bloccano in tutte le grandi città dal nord al sud ci furono manifestazioni per strada e scontri molto violenti tra i carabinieri e i manifestanti la zona calda è quella della romagna delle marche storicamente anarchica e repubblicana in certe località quelle in cui maggiormente vibrava questo spirito rivoluzionario e la folla in rivolta divenne padrone della situazione fu impedita la partenza dei treni vennero devastati i caselli del dazio gli uffici telegrafici le stazioni ferroviarie è un'ira è un'ira così totale popolare che si esprime anche con requisizioni di armi di automobili ovviamente dei proprietari terrieri vengono requisite le partite di grano e vengono costituiti i magazzini popolari i magazzini popolari e ricordiamolo in molte località della romagna io penso a fusignano che non è famosa solo per il geniale arrigo sacchi si innalzano gli alberi della libertà da ancora dove il movimento era iniziato non c'è stata però nessuna direttiva non c'era un piano era un movimento spontaneo e quindi mancava un disegno rivoluzionario non c'era ancora stato il 17 la rivoluzione d'ottobre quindi era ancora tutto da in italia non esisteva neanche il partito comunista era tutto da inventare quindi sono disordini che dopo alcuni giorni diventano molto frammentati da luogo a luogo e quindi si constata che l'insurrezione popolare si è esaurita e il sabato 13 giugno è proprio pietro nenni a presentare alla camera del lavoro di ancona l'ordine del giorno per la cessazione dello sciopero il 14 giugno quindi tutto ritorna diciamo sotto controllo occorre ricordare che il bilancio di quella settimana rossa fu un bilancio tragico 16 manifestanti persero la vita 600 tra gli scioperanti restarono feriti e anche dalla parte delle forze dell'ordine si conta un commissario morto e 400 feriti tra la polizia e i carabinieri cosa disse nenni furono sette giorni di febbre durante i quali la rivoluzione sembrò prendere consistenza di realtà per la prima volta forse in italia con l'adesione dei ferrovieri allo sciopero tutta la vita della nazione era paralizzata paralizzata parlare della figura di alan turing implica per noi un dilemma quasi irrisolvibile tanto più perché siamo proprio noi che non siamo capaci di risolvere nulla un po come la decrittazione di enigma il sistema elettromeccanico che fu brevettato in germania per cifrare i messaggi trasmessi sulle linee del fronte che riuscì appunto quest'impresa a turing il protagonista di oggi alla fine del 41 perché il dilemma nostro è quello di tracciare il profilo di un genio assoluto alan turing alan turing che il protagonista della nostra seconda parte in ambito matematico e allo stesso tempo del padre di quella che potremmo definire la moderna informatica in assenza dobbiamo farlo di solide nozioni tanto nel primo quanto nel secondo ambito oggi parliamo di turing perché sono 70 anni esatti dalla tragica scomparsa di questo genio di questo genio che non ha avuto in vita diciamo le attestazioni che meritava anzi è stato combattuto e è stato violentato dalla società della società retrata dell'inghilterra di allora dove il reato di omosessualità se è stato colpito come reato appunto fino agli anni alla fine degli anni 60 senti la soluzione forse più semplice sarebbe quella di cercare l'uomo dietro il genio se non fosse che la vicenda appunto umana di turing è quasi inscindibile dalla sua ricerca che nel corso della sua breve ahimè vita si è diramata su un'infinità di ambiti applicativi senza contare il contributo che il suo lavoro ha offerto allo sforzo bellico e alla causa dei buoni e permettendo all'inghilterra di tenere testa a un certo punto e per molto tempo da sola ai caini nazi fascisti e l'ingiustizia massima proprio quella che per la sua omosessualità tutto questo non è stato raccontato per moltissimi anni nel 14 10 anni fa il film di mortem tildum di imitation game con un bravissimo benedict camberbatch kira knightley e tanti altri l'uscita di questo film ha contribuito a far conoscere la figura di questo genio che fino allora diciamo non era così noto nel mondo e c'è stato dato un ritratto di un sociopatico personalità ossessiva quella di turing che almeno in parte viene ricondotta a un lutto adolescenziale che cos'è accaduto un suo amico probabilmente l'uomo che lui amava il ragazzo che lui amava compagno di classe muore e il nome sappiamo è quello di christopher questa morte avrebbe probabilmente spinto turing e il suo genio verso la crittografia e questo sarebbe stato il primo grande amore mai dichiarato del grande matematico allora pare che tutto questo sia confermato da svariati biografi e poi c'è un c'è un carteggio che turing avrebbe intrattenuto con la madre del povero del povero christopher che pensate la sfortuna terribile muore per una tubercolosi bovina contratta bevendo del latte infetto tremendo allora occorre sottolineare che dietro all'immagine di questo scienziato asociale con atteggiamenti maniaco compulsivi c'era non solo un autentico genio matematico che ormai è universalmente riconosciuto ma anche un brillantissimo accademico che prima e dopo la guerra si era fatto riconoscere nei centri della ricerca sulle due sponde dell'oceano che pensate sul finire degli anni 30 aveva tenuto banco nelle letture di un altro gigante assoluto l'immenso ludwig wittgenstein al king's college di cambridge anche nel corso della fase bellica turing non solo seppe portare a termine una missione che sembrava impossibile ma riuscì abilmente con una abilità anche diplomatica all'occorrenza ad assicurarsi i fondi necessari per lo sviluppo delle sue ricerche addirittura venne scomodato winston churchill in persona e a gestire con la massima discrezione quel segreto militare di portata epocale in accordo con le necessità dell'esercito di his majesty in questo caso his sì era un re il papà della regina giorgio sesto turing aveva un grandissimo intuito logico matematico e aveva anche un'esperienza di lungo corso nella progettazione meccanica dei calcolatori e poco dopo essere entrato nel programma segreto del dipartimento di comunicazione del regno unito per la decrittazione di messaggi cifrati del nemico in questo caso dei tedeschi turin capisce che uno degli ostacoli principali alla missione era la mancanza di risorse innanzitutto finanziarie cioè gli avevano dato troppi pochi soldi e quindi lui cosa fa si inventa una 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 sezione che aveva questa sede bletchley park bletchley park era una sorta di versione potenziata di una macchina per la decrittazione già progettata in polonia tra il 32 il 38 che si chiamava bomba tant'è che turing la sua la chiamerà bomb 1941 il team di turing arriva alla decifrazione del primo ordine cifrato e anche la definizione di un metodo di decrittazione rapido che permetta di aggirare i continui cambi di codice da parte tedesca e questa notizia rimane con grande tenacia top secret e lo sarà per i successivi 70 anni pensate è uno un'arma che sarà utilizzata in modo assolutamente discreto fondamentale per la vittoria certo diciamo per la vittoria per non soccombere in quel periodo in cui l'inghilterra abbiamo detto era sola era l'arma in più era l'arma in più c'è anche stato radar per fortuna appunto queste cose c'è stata anche una terza arma diciamo quella è arrivata dopo puntini puntini però lasciami dire per fortuna che è arrivata dove è arrivata perché se l'avesse avuta baffino ma ah sì figurati senza problemi senti c'è anche un cinismo perché per non far capire al nemico che l'avevano l'avevano scoperta lasciarono lasciarono accadere delle cose inaudite e una di queste è coventri coventrizzazione il bombardamento a tappeto della città inglese loro lo sapevano lo sapevano ma se avessero in qualche modo sventato quell'attacco i tedeschi avrebbero capito certo di essere stati scoperti studi recenti ritengono seppure in via ipotetica che lo sfruttamento del sistema brevettato da turing possa pensate aver addirittura accorciato la guerra di due anni e aver risparmiato fino a 14 milioni di vittime potenziali e non si può non menzionare la tragica fine di questo eroe di alanturi incredibile incredibile perché ci offre la sua vicenda l'ennesimo esempio di oscurantismo delle leggi della morale ancora di stampo vittoriano ma ci spiega anche come un paese come l'inghilterra non sia stata in grado di tutelare una delle sue menti più brillanti cosa accade 1951 turing è ovviamente all'apice del proprio prestigio accademico e resta coinvolto in un'indagine che porta alla luce la sua omosessualità sembra che questo passo falso l'abbia compiuto lo stesso turing che decide di denunciare un furto nel suo appartamento da parte di un 19enne disoccupato e quando fa questa denuncia non pensa che le forze dell'ordine possano scoprire la sua relazione con il colpevole turing ovviamente era costretto a farlo viveva la propria omosessualità con la massima discrezione aveva anche rifiutato un matrimonio di copertura con una delle sue collaboratrici peraltro del tutto consenziente perché pensava giustamente che fosse una soluzione ipocrita allora una volta scoperto è costretto a una decisione drammatica cioè la decisione è tra il carcere e la castrazione chimica e turing sceglie la seconda opzione si sottopone a una cura ormonale atta a inibire la libido questo accadeva nell'inghilterra degli anni cinquanta cosa mostruosa e al di là dei disagi alla salute che seguirono perché l'impotenza è anche una femminizzazione in qualche modo del corpo lui fu estromesso dalla vita accademica britannica non solo fu estromesso anche dai consensi statunitensi e da qui ne derivò l'inevitabile tra collo psicologico come se non bastasse immaginate intanto questo paradosso che uno degli uomini a cui dobbiamo di più la nostra libertà e la vittoria dell'occidente della democrazia castrazione chimica diventasse uno straniero in patria pazzesco pensate tra l'altro come se non bastasse quello che vi abbiamo detto è una delle cose più crudeli e ingiuste che siano successe nell'immediato dopo guerra turing rimane anche sorvegliato speciale dalle forze dell'ordine britanniche probabilmente anche su istigazione dei servizi segreti e nel 52 arrestano un suo amico che era venuto a fare di visita dalla norvegia dopo averne intercettato la corrispondenza quindi è incredibile che il mondo di james bond fosse anche il mondo in cui succedevano queste cose servizi segreti 1954 alan turing è trovato esanime nel suo appartamento per un avvelenamento da cianuro gli accertamenti che vengono condotti molto frettolosamente confermano l'ipotesi del suicidio che a tutt'oggi resta la pista più probabile non è del tutto escluso che si possa essere trattato di una ingestione accidentale c'è anche chi ha avanzato l'ipotesi di un'azione dei servizi segreti britannici ma non ci sono le prove 2009 l'allora primo ministro gordon brown ha offerto una public apology per il trattamento riservato dalla legge inglese a turing e nel 2013 la compianta regina elisabetta ha concesso la grazia postuma e nello stesso anno è passata una legge che riconosce la grazia a tutti gli ex scondannati dalla sezione 11 la legge è passata alla storia come alan turing law però stiamo parlando di una cosa veramente successa l'altro ieri terribile terribile un grandissimo alan turing it took more than half a century for the state to acknowledge the injustice of dr turing's conviction for homosexuality now following parliamentary pressure he's been given a posthumous pardon the injustice done to him is corrected today by this problem and I think that is the end of that bit of the story about the appalling treatment of gay men the pardon was granted by the queen under the royal prerogative of mercy at the request of the government which described it as a fitting tribute to an exceptional man oggi è venerdè gnoscer l'umor da bestia questo è dedicato ai nostri animali vuol dire conoscere l'indole della persona o dell'animale ah ecco per me le bestie valgono più degli uomini vedi americo conosce molto bene gli animali e noi ci facciamo dire dal nostro leonai non due andem al cinema perché dopo essere stato presentato a can e ancora nelle sale e io l'ho visto un film devo dire bellissimo e totalmente folle per marco giusti il grande marco giusti i miglior film dell'anno furiosa mad max saga il quinto capitolo della saga di mad max del grande george miller e devo dire che guarda non c'è mel gibson no non c'è mel gibson come nei primi non c'è neanche tina tyner non c'è neanche tina tyner e il barano beh ci sono tante bestie effettivamente ci sono tante bestie il grande george miller che l'ha concepito è una sorprendente cornucopia di creatività di ricchezza di bellezza è veramente un'opera d'arte e pensavo a questo guardando e poi ho letto la recensione dell'ottimo peter bradshaw il grande critico del guardians che così dice molti film vengono definiti surreali ma queste strane esibizioni rituali di veicoli di gladiatori nel vuoto bruno rossastro sembrano davvero qualcosa di giorgio de chirico o max ernst andatelo a vedere io aggiungerei anche un po di savigno sì perfetto andatelo a vedere e poi scrivete a piero le vostre impressioni scrivetemele perché io sono felice se scrivete a lui lui ve l'ho fatto vedere no lui fa così guarda se scrivete a leonardo l'ho visto io lo fa così basta ma cosa vogliono questi così questo è importante mentre se scrivete a me se scrivete a me io vi faccio dei fiori vi rispondo sì lui raccoglie anche le foglie secche in un album vero i fiori secchi questo lo fa mia madre è una prassi meravigliosa tu no io no perché non sono capace sono un deficiente ma però la mia mamma mi ci aveva spiegato come si fa poi l'ho dimenticato ciao mamma ciao mamma ma come sono bello guarda come sono bello in television a domani al manacco di bellezza a cura di piero maranghi e leonardo piccinini con lucia simioni stefano pupini jacopo milardotti paolo faroni riccardo cassani greta torresi samanta chiodini realizzato da amerigo daveri valentino pupini luigi consolandi stefania margheritti alessandro pupini prodotto da piero maranghi una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo